Siamo a poter togliere questo tappo e che l'acqua possa spaventare nel fiume e mettere un po', fare la conta dei danni e sperare che non ci sia. E' questo, è una situazione drammatica, veramente. E' una cosa che non ci aspettavamo così, poi così repentina in mezz'ora si è alzato il livello del fiume e ci ha colpi di sorpresa, siamo stati veloci a intervenire su Martinetto e tutto, però guardate qua, le coniezioni parlano da sole, voglio dire, c'è un tappo che non consente neanche di poter intervenire, adesso abbiamo richiesto l'intervento di mezzi grossi di palle meccaniche per accedere alla zona di Martinetto.